Paolo Pizzuto, coordinatore del settore giovanile del CLN Cusmolise, inizia per te una nuova avventura, con quale spirito? L'entusiasmo della novità è sicuramente la voglia di rimettersi in gioco e gli stimoli che appunto vengono da un ambiente come quello Cus che offre una varietà di opportunità per l'attività giovanile. Arrivi in un abbraccio, un progetto con basi solide, quali possono essere gli obiettivi per la prossima stagione? È un percorso di crescita che mi richiede sicuramente responsabilità, ma anche voglia di coinvolgere le persone già presenti e soprattutto far appassionare i ragazzi a un'attività che è coinvolgente e sicuramente può attirare anche numeri maggiori rispetto a quelli degli anni passati. Sarà un progetto ad ampio raggio? Si cercherà di coinvolgere più realtà della nostra regione? Sì, il marchio tra virgolette Cus può essere l'opportunità per coinvolgere altre realtà presenti sul territorio e quindi creare delle collaborazioni che possono far crescere dal basso il movimento del calcio a 5 in una fase di passaggio di questo movimento così come è stato anche deciso a livello nazionale.